Carini? No, siamo molto sexy. Non ti preoccupare ragazzo, presto sarà acqua passata e partiremo per la nostra avventura. Perché io ho annullato gli impegni per te, tu e io. Se la spasseremo la grande! Yeee! Non vediamo l'ora! Ti vengo a prendere appena finisco la colazione. È incredibile quanto sia difficile trovare del bacon da queste parti. Passo è chiuso. Salve gamers e youtubers, mamma mia. Abbiamo, ho fatto fuori il comando, il tenente, insomma, il tizio via. L'ho fatto fuori, non ce nemmeno sento bisogno di perquisirlo. Fatto fuori, finita la missione. Non me l'aspetti, eh sì. Grazie per aver volato in territorio nemico, Stellina. Appena trovo un altro contatto con Yuma mi faccio sentire. Nessuna pietà, missione completata. Ragazzi, non mi aspettavo finisse così in fretta la puntata, altrimenti per davvero continuavo e... Voglio dire, continuavo e lasciavo... Vabbè, avete capito? Perfetto, andiamo subito nel rifugio dell'aeroporto, ragazzi. Porca boia. E... Veramente, non pensavo che la puntata sarebbe finita... Cioè, non pensavo che il livello sarebbe finito così in fretta la scorsa volta. Altrimenti per davvero continuavo, facevo un paio di tagli dei punti inutili. Ma poi, boy, non l'aspettavo, non l'aspettavo per niente. Ah, già, è giusto in tempo. Stavo proprio finendo. Ci siamo, ho un ultimo lavoro per te. Sei quasi alla meta. Forza, sali. E sta pilotando un aeroplano. La cosa non mi rende proprio gaudente. Per niente, Reviensi, per niente. Ti dirò la verità e non ti piacerà per niente. Tuo padre ha cercato di uccidere tua madre perché voleva lasciarsi tutto alle spalle. Il sentiero d'oro, il kirat e la causa. Che cosa? Uno, tua mamma era la cuna matata, o come cazzo chiamano le ragazzine. Due, tua madre spiava Pagan, anche se un po' le piaceva. Tre, tuo padre era un patriote. Tutti i patrioti che ho conosciuto erano figli di puttana. Per il resto... Un altro tenente di Yuma deve morire. Ah, proprio... Non mi lascia nemmeno il tempo di digerire tutte queste informazioni. Mio padre che ha cercato di ammazzare mia madre perché voleva abbandonare la causa, nonostante ci fossi io di mezzo, no? Va bene, va bene. Ottimo. Da che parte di mondo... No, non ti aspetterei seriamente che io faccia ciò. Non ti aspetterei veramente che io lo faccia. Si aspetta seriamente che io lo faccia. D'accordo, facciamolo. Mi sono tenuto il fucile di precisione perché forse mi potrebbe servire. Mamma mia, ragazzi. Certo, con il fucile di precisione migliore avremo potuto anche cerchionare tutto... di pagami da qui, per davvero. Vai, pronti, pronti. E... Atterraggio perfetto. Un po' quasi. Non ce ne sono di problemi, per davvero. Ma non ce ne sono. È giuro. Che è l'ultima volta che ti difendo. Non mi sento le mani per colpa tua. Per colpa tua che non tieni la bocca chiusa. Ci hanno tolto le banche, per colpa tua. Che ti tracchino le dita. Non so chi ha parlato, mamma, come mi prega. Andiamo ad ammazzare sti tizi, via. Cerchiamo il tenente e uccidiamo. Non stavo scherzando quando ti ho detto di aprirlo in due. Il corpo mi serve intatto. Armi ed esplosivi fanno troppi danni. Devi usare una lama. È il momento di una bella uccisione. Vecchio stile. Perché cazzo ti serve il corpo intatto? Oh, Agai, non voglio dirti bugie. Basta così! Negativo. Non attenzione. Ah, qui mi stilo nel senso, proprio. Agai, non voglio dirti bugie. E quindi non ti dirò proprio nulla. Guardi. Chi è? È un orsone. Ma come sei tenere, amico mio? Vabbè. Incredibile, ragazzi. Quindi dobbiamo cercare di farlo gli stat. Altri livelli gli stat. E non è un male. Anzi, per me va benissimo. Io adoro lo stat. Spaccio di questo gioco. Spaccio di Fai 3 e 4, proprio per essere generale. Ma... Non voglio dire. Forse per voi sarebbe meglio una scena un po' più di azione, eh? Non vi preoccupate. Arriverà anche. Sì, vabbè. Proprio il tenente poi mi ha beccato, eh? Mi ha beccato proprio il tenente. Questi si chiamano colpi di culo, ragazzi. Sono un'impi spettacolari. Sì. Oh, vabbè. Fuori uno. E abbiamo fatto. Sì, state a vedere che non è manco lui, eh. Andate a vedere. L'abbiamo ammazzato completamente... E' spingutile. E' spingutile, per vedere. Sì, vabbè. Perfetto. Vuoi vedere come mi vedi ora? Dove sei? Dove sei? Dove sei? Vieni, vieni. 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 Vabbè, anche io però mancano così tante cose. Sono davvero olbo, eh. Ho sentito un cane. Miseria, ladra, i cani. Odio i cani. Tutti i videogiochi, proprio. Sono cattivissimi. Cioè, non tutti. Tutti dal primo all'ultimo. Però boia. Ok, vedi, mio amico. E anche qui. Sì, vabbè. Andiamo di qua. Facciamo qui, ma non è scappata, eh. Non ci vedo veramente. Va bene. Si plana ancora. Mamma mia, questo livello è una roba etica, però. Sì, che cacchio è? No, aspetta, 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 aspetta. Dove devo atterrare? Non qui. Ok, ok, ok. Ok, ok. Sto andando avanti, ragazzi. Praticamente ho scoperto. Eh, sì, lo so. Lo scusatemi. A volte mi concentro troppo sul parlare e poco sul gioco, purtroppo. Ma mi può capitare quando faccio i video. Eh, lo so. C'è scritto che devo usare la tutta l'area per tornare da Willis. Solo che come cacchio faccio? Non è che volo con sta roba, eh. No, veramente, non volo con sta roba. Come faccio a tornare da Willis, eh? È un pochino più in alto di... Eh, sì, che cacchio. No, no, via, 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 via. Sì, che cacchio. Sì, ma qui ci andiamo a scantare contro il veloce, non lo vorrei dire, eh. Ma qui ci andiamo a scantare, ci andiamo a scantare, garantito. Miseria, miseria e l'area, miseria. Oh, con calma, eh. Con tanta calma. Porca boia. Sto volando più che i soldati Transformers 3 con la tuta l'area. Porca boia. E si, oh, con calma, e con calma, con calma, con calma. Non ci... Come abbiamo fatto? Come è stato scientificamente impossibile ciò? Siamo partiti dal più basso, dal basso. Come abbiamo fatto? E torna in alto. Forse è un altro punto, questo è basta. Sì, è un altro punto, è un altro punto, eh. Vuoi dire, altrimenti sarebbe stata una boiata, eh. Hai eliminato il bersaglio? Sì, l'ho fatto fuori. Adesso pensiamo aiuti. Sì, va. Queste informazioni sono l'ultima busta paga. Quelli che hai ucciso finora erano contatti della CIA, polizie di primavera. Ormai Pagan non rappresenta più una minaccia per gli Stati Uniti. E noi dovevamo coprire le nostre tracce in Kirat. Hai fatto un ottimo lavoro. Quindi mi hai raccontato un sacco di panni. Quel che ho detto sui tuoi genitori, quello è tutto vero. E quel che ti ho detto di Yuma... Chiediglielo tu stesso! Cosa cazzo stai facendo? Mi dispiace ragazzo, ma come ti ho detto i patrioti sono tutti figli di puttana! E anche se è un patriota, quindi... Yuma? No. Soldato a random che ci aspettava. Abbiamo completato l'atto 2! L'atto 2 finisce in questa maniera di... Porca boia! Porca boia! E ora? Gli hai lasciato il sacchetto in testa? Può respirare? Gli hai fatto dei buchi per non farlo soffocare? Ehi là! Ci siamo divertiti a giocare con la Gia? Yuma! Benvenuto a Durgesh! Lei! Scusa se l'alloggio è spartano, ma sei stato una merdina birichina, Giai, con i tuoi amichetti. Del sentiero d'oro. E sai, ma sentiranno? Ti brucia ancora per quello che ho fatto al tuo fidanzatino della cena? Aspetta, come si chiamava? All'altan barman, ma non Batman! Che noia! Batman, esatto! Era Batman! Te di arti, Yuma? Ma fammelo coccolare! Stai per fargli scoppiare il cervello? Se vuole un panino alla merda, che almeno sia senza cipolla. Come vuoi! L'hai visto? Respira bene! Adesso ciao! Ho del lavoro da fare! Ok, ok, ok! Ma lo voglio vivo! Con tutti i pezzetti attaccati. Un'ultima cosa. Allora, Giai, so che è difficile, ma vedila come è una dura lezione questa. E poi guarda che sweet panoramica. Eh? Sì. Sì, panoramica. Ma un'ultimo consiglio. Fossente, non dormirei troppo vicino al bordo. Sì, lo so. Perché mi prendono bronchite, vero? Come vuoi. Ciao. Faccia a terra! Faccia. Ho detto, faccia a terra! Va bene. Solo a terra. Cosa stai facendo? Che cos'è? Una bella droghetta, ovviamente. Allora, quante volte ci hanno drogati in questo gioco, finora? No, veramente, quante? Quante volte ci sono riusciti a drogarci? Vabbè, ragazzi. Sì, vabbè. Sì. Sì. Senti, una fantasia erotica per volta, per piacere. Ok. Sogno di caderno. Qui cade a proteggere. Solo che voglio insistere. Ma che che? È quello che succede. Ai tempi. Posso tipo... Ok. Non guardare in basso. Io ci guardo. Io ci guardo. La faccia tua ci ho guardato. La faccia tua proprio. La, la c'è l'aperta. No, ragazzi. Qui ci sarà da continuare. Sì, fuggire la prigione. Come no. State tranquilli che è tutto vero, tutto reale. Ma sicuro al 100%. Ragazzi. Noi ci vediamo al prossimo episodio di Farcari 4. Mettete un mi piace, commentate, condividete. Iscrivetevi al canale. Perché non vi faccio vedere subito al prossimo episodio? Perché so che non è niente di vero. So che sarà una roba lunga. Quindi noi ci vediamo al prossimo episodio, ragazzi. Ciao.